Bentrovati nel cuore pulsante dell'informazione online, benvenuti in Top 5 News Italia. Vasco Rossi infiamma il Renzo Barbera. Pienone e grande successo per il Blasco. Milano Pride, 2023. Famiglia Arcobaleno in prima linea nella battaglia per i diritti LGBTQ+. Una manifestazione contro la regressione dei diritti e per il pieno riconoscimento delle famiglie omogenitoriali. Lotta per il riconoscimento dei figli dopo una sentenza controversa. La forza di Tiziano Ferro. Combattere la discriminazione con coraggio e libertà. Tiziano Ferro svela il suo toccante messaggio di libertà durante il concerto all'Olimpico di Roma. Questa notizia finisce qui. Per le altre trovate i links in descrizione. Grazie per averci scelto. Vi aspettiamo nelle prossime news.